E' domenica 30 ottobre, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale questa mattina in regia Francesco Di Rienzo. Domani saranno 20 anni dalla tragedia di San Giuliano di Puglia, le vittime saranno commemorate al cimitero del paese alle 11.32, l'ora del crollo della scuola Iovine. Poi in serata ci sarà la fiaccolata, la comunità si prepara a questo anniversario del dramma che ha segnato per sempre la vita degli abitanti. A San Giuliano di Puglia è andato per noi Enzo Luongo. Sarà il giorno del ricordo del dolore del silenzio. San Giuliano domani celebra i 20 anni della tragedia della scuola Iovine. Alla vigilia dell'anniversario il paese sembra rivivere l'atmosfera di 20 anni fa. Anche nel 2002 in quei giorni il clima era quasi estivo e anche in quei giorni il paese era quasi deserto perché tutti erano impegnati nella raccolta delle olive. In piazza ci sono solo poche persone, soprattutto anziani. Come ricorda quella giornata? Qual è il suo ricordo personale? Malissimo, malissimo. Poi da quella giornata non ce li sono. Perché stavo lavorando sotto una macchina e non ho capito più niente. Da quel giorno è cambiata la vita per tutti? Beh, penso proprio di sì. È stata brutta. Mi è dispiaciuto ai bambini che sono morti sotto la scuola. E dove era quella mattina? Che si ricorda di quel giorno? Io stavo in campagna a raccogliere l'uliva. E poi mi hanno chiamato a telefono dicendo che era fatto il terremoto. Poi avete saputo della scuola? Abbiamo saputo della scuola, però mi dispiace tanto. È un giorno particolare il 31 per noi. Non c'è più affetto, ha visto, sempre, non lo so, che te lo dici. Ci dispiace tanto per i bambini. Nel terremoto, che ti ricordi? I casi sono giù da poterlo. Quindi sono rimasti tutto a metà. Poi ho avuto due vallaggi, ci hanno costruito e bambini. Domani la giornata della memoria sarà scandita al mattino dalla commemorazione delle vittime al cimitero con i rintocchi della campana proprio alle 11.32, l'ora della tragedia. Poi il corteo verso il parco della memoria. La sera la fiaccolata. E domani dalle 10.30 Telemolise trasmetterà in diretta proprio da San Giuliano di Puglia tutte le celebrazioni previste per ricordare la tragedia e le sue vittime. E adesso cambiamo argomento. Nessun congresso regionale per il Partito Democratico. A dirlo è stato Enrico Letta nel corso della sua replica alla direzione nazionale. Sul fronte interno invece il segretario regionale del PD Facciolla si dice tuttavia disponibile ad un congresso regionale tra dicembre e gennaio. Ascoltiamo. Enrico Letta ha avuto parole chiare in direzione nazionale. Nessun congresso regionale. Il Partito Democratico va direttamente al congresso nazionale a marzo. Salta così l'ipotesi paventata in Molise richiesta in primis dalla capogruppo in regione Michela Fanelli. Sul tema tuttavia c'è da registrare l'apertura del segretario Facciolla che si dice disponibile a celebrare comunque un congresso locale se questa richiesta pervenisse dalla direzione regionale del partito. Non si può arrivare logorati all'appuntamento con le elezioni regionali della prossima primavera, dice il segretario. Occorre che il partito sia nelle condizioni migliori per affrontare quell'appuntamento e lavorare con autorevolezza con gli alleati e sul territorio. Quella di Facciolla è la classica mossa del cavallo in una partita a scacchi dalle numerose variabili. Innanzitutto la definizione interna su una possibile candidatura al vertice della regione fattore che dovrà successivamente essere portato al tavolo di confronto con gli alleati. Movimento 5 Stelle in primis. I rapporti tra PD e Pentastellati attraversano una fase di freddezza reciproca che deriva da un quadro nazionale rispetto al quale i due leader Letta e Conte continuano ad incrociare le spade sul fronte delle opposizioni al governo Meloni. Al primo appuntamento, quello del Lazio, a febbraio le due formazioni con molta probabilità si presenteranno separate andando verso uno schianto facile da prevedere. Tuttavia, da entrambi i fronti si spera in un recupero di serenità e in un corso lampo di aritmetica poiché è solo sommando le due forze che sarà possibile giocare la partita. lo sanno a Roma e lo sanno anche in Molise. È per questo che Facciolla intende sbrogliare per tempo la matassa congressuale. Solo con una dirigenza forte potrà sedersi al tavolo col parigrado Antonio Federico e concordare lo schema di gioco per conquistare la regione. Arriva dal segretario dell'UGL Nicolino Libertone un plauso all'assessore regionale ai trasporti Quintino Pallante a cui va il merito di aver redatto e pubblicato il bando di gara per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico. Uno strumento, dice Libertone che metterà fine a tutte le ingiustizie nei confronti dei lavoratori offrendo un servizio migliore all'utenza e una spesa più oculata delle risorse pubbliche. E dopo lo spettacolo di ieri sera al Savoia di Campobasso di Vaillant di tutti i riflessi di speranza si replica oggi pomeriggio alle 16.30 sul palco Andrea Ortis autore, attore e regista della piste teatrale con un cast di attori e performers lo spettacolo è a Campobasso in anteprima nazionale. Bene, è tutto per l'informazione passiamo adesso alla rassegna stampa. In apertura di rassegna stampa diamo subito uno sguardo alla home page del giornale del Molise. Lunedì sarà conferita la cittadinanza onoraria di Cività Campomarano al capo della protezione civile Fabrizio Curcio e questa la notizia in apertura poi si parla di stabilizzazione dei precari emergenza covid cesa presenta un emendamento soddisfatto Iorio poi il bollettino nell'ultimo diramato dall'Asrem 78 nuovi contagi e 222 i guariti scorriamo le altre notizie il PD diffida Toma sul post l'emodinamica del veneziale non può chiudere proseguiamo con primo piano Molise la politica in apertura regionali Renzi e Calenda dicono soli e alternativi a Toma Italia Vive azione stanno lavorando ad una lista unitaria per le elezioni del 2023 distante dicono dai bipopulismi di 5 stelle e leghe dal sovranismo della destra intesa possibile solo con il PD aperti a costruire alleanze con chi si pone in discontinuità con il discutibile operato della giunta di via Genova vediamo le altre notizie emodinamica Isernia esegue gli stessi interventi di Termoli no alla chiusura PD e Casa dei Diritti diffidano la struttura commissariale e chiedono il ritiro del post andiamo poi a Termoli ma loro in strada 72enne perde la vita polemiche sui soccorsi le altre notizie in evidenza il trasporto pubblico locale inadempiente la CGL segnala l'ATM all'Inps non versa i contributi al fondo di previdenza complementare da Larino il consiglio di stato bocce e ricorso Isabella Ginefra lascerà la procura Agnone Caro Bollette teatro e piscina si arrendono un'altra mazzata scrive primo piano da Venafro acqua verso la Campania il volturno non si tocca Isernia Halloween la dioce si propone ai giovani una veglia di preghiera vediamo adesso in taglio alto le notizie sportive Campobasso quattro gol al Campomarino ottava vittoria di fila conquistata serie di termoli vittoria nel mirino arriva il Matese sfida alla Vastese per il vasto Girardi calcio a 5 CLNQ spari agguantato sul gong prima gioia per lo sporting Venafro prima pagina del quotidiano abruzzese il centro rincari bollette lira dei residenti Pescara in piazza per protestare contro gli aumenti siamo in ginocchio poi a centro pagina una fotonotizia d'archivio disastri 13 milioni ai comuni Rigopiano in cima alla lista Abruzzo la lista dei fondi contro valanghe e sondazioni e frane vediamo le altre notizie sul quotidiano abruzzese il Pescara va all'assalto della Juve Stabia Colombo rilancia Colai questo il titolo dedicato allo sport poi la cronaca picchia un autista della tua arrestato Giulianova passeggero rompe il naso al conducente che gli vieta di salire con la bici poi giallo all'Aquila prete trovato ferito nel bosco con una pistola e lasciamo la pagina principale e andiamo a vedere invece le edizioni locali del centro edizione del Terramano ricostruzione arrivati 293 milioni questo è il titolo principale Teramo è la somma per i progetti finanziati sei anni dopo la grande scossa poi vediamo anche qui la notizia di una protesta Alba millenò al senso unico comitato di cittadini raccoglie le firme per Viale Mazzini lasciamo l'edizione del Terramano e andiamo a vedere quella che fa riferimento all'area di Chieti Lanciano e Vasto locali rumorosi salute a rischio Chieti Movida il giudice motiva i sequestri musica e schiamazzi intollerabili poi una notizia che riguarda il mondo del lavoro Sevel i sindacati lavoratori da tutelare a Tessa dopo l'annuncio del cambio del nome chiesta l'approvazione del nuovo contratto andiamo avanti sempre con il quotidiano abruzzese e nella edizione dedicata al territorio dell'Aquila Vezzano e Sulmona ritroviamo questa notizia che era anche nella pagina principale sacerdote trovato ferito nel bosco colpo di pistola l'ex parroco di Navelli in prognosi riservata indagini in corso altra notizia che arriva dall'Aquila cimitero le zone rosse sono ancora lì loculari inaccessibili dal sisma lettera fissa sulle rete perdonateci scrivono lasciamo il centro ma proseguiamo con le pagine abruzzesi con la pagina interna del messaggero covid più malattie mentali questo scrive in apertura il messaggero edizione Abruzzo l'epidemia colpisce anche a livello psicologico particolarmente esposti i ragazzi contagi cure e ricoveri stabili ma i morti sono aumentati di oltre il 20% anche qui sulla edizione abruzzese del messaggero la cronaca non vuole la bici a bordo testate all'autista della tua gravi ferite al viso l'aggressore arrestato con l'accusa di lesioni poi la politica i sottosegretari della Meloni Pol Deramo Bagnai e Lupi questo per quel che riguarda l'Abruzzo lasciamo la stampa locale e andiamo a dare uno sguardo invece alle prime pagine dei quotidiani nazionali iniziamo come di consueto con il Corriere della Sera che ha in apertura la guerra in Ucraina attacco alle navi russe colpite dai droni Mosca accusa anche Londra e sospende l'accordo sul grano raid in Crimea nel porto di Sebastopoli base della flotta nel Mar Nero e Putin torna a bombardare andiamo invece in taglio alto dove si parla di politica governo discontinuità su giustizia e covid ecco le mosse di Meloni tensione con Salvini l'agenda del primo consiglio dei ministri bollette ergastolo ostativo rinvio della riforma cartabbia lasciamo il Corriere vediamo l'apertura che fa invece questa mattina la Repubblica Ucraina ecco le armi mandate dall'Italia questo è il titolo principale l'esecutivo Draghi ha fornito i cannoni semoventi e i lanciarazzi più moderni della Nato con decine di obici e blindati i nostri mezzi usati da Kiev contro i russi ora la Premier deve decidere sullo scudo antiaereo chiesto da Zelensky poi sempre sulle vicende che riguardano il conflitto attacco in Crimea alle navi di Mosca e il Cremlino ferma l'accordo sul grano andiamo avanti con il fatto quotidiano che apre sempre sulle vicende politiche Meloni condanna Nordio all'ergastolo questo è il titolo che fa il quotidiano diretto da Marco Travaglio buona la prima scrive il fatto anche il rinvio della cartabbia e la fine dei vaccini forzati domani il primo consiglio dei ministri commissariato il ministro e ci si riferisce sempre a Nordio il testo sui boss è del movimento 5 stelle ma fratelli d'Italia chiosa il fatto non lo aveva votato proseguiamo con Libero gli antimeloni si fanno il ponte scrive il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti i compagni sono già stanchi l'occupazione della sapienza sospesa fino al 4 novembre altro che emergenza democratica l'importante è andare in ferie scrive Libero i pacifisti rossi in piazza poi aggiunge con gli striscioni pro Putin si parla poi di riforma della previdenza idea di Salvini per le pensioni via un miliardo ai fannulloni per darlo a chi ha lavorato poi l'intervista al ministro della difesa a Crosetto che dice l'Italia avrà più soldati passiamo adesso alla prima pagina del quotidiano della conferenza episcopale italiana il cibo vittima di guerra scrive in apertura l'avvenire attacco ucraino con i droni alla flotta russa in Crimea e Mosca sospende l'accordo sull'esportazione del grano le associazioni cristiane dicono stop alle armi voce alla pace mobilitazione per la manifestazione di sabato a Roma colpite navi a Sebastopoli il cremlino dice terrorismo blocchiamo i cargo l'ONU media elettricità e gas razionati nella regione di Chieva restiamo sempre sull'avvenire con la politica carceri e sanità e dietro front nel consiglio dei ministri di domani rinvio della riforma cartabia e benefici penitenziari stop alle multe per il covid il governo frena sull'abolizione dell'ergastolo stativo via l'obbligo vaccinale per i sanitari andiamo avanti con il mattino di Napoli il governo parte dalla giustizia questo scrive in apertura il quotidiano campano domani il decreto no ai permessi premio per i mafiosi e terroristi rinvio della riforma cartabia pensioni tagli a reddito per finanziare quota 102 covid obbligo di mascherina nei reparti a rischio poi questa notizia drammatica che arriva da Seul Seul sotto shock almeno 150 morti e 100 feriti durante la festa l'inferno nella calca di Halloween passiamo adesso alla prima pagina del messaggero Meloni parte dalla giustizia pensioni premi a chi resta scrive in apertura il quotidiano romano domani il primo consiglio dei ministri niente benefici per i boss che non collaborano taglio a reddito per finanziare quota 102 più aiuti per le bollette poi la guerra colpite quattro navi russe stop all'intesa sul grano Sebastopoli blitz dei droni ucraini la ritorsione di Mosca a centropagina la fotonotizia che arriva da Seul l'inferno di Halloween oltre 100 morti lasciamo il messaggero e passiamo adesso alla stampa di Torino non festeggio questo 25 aprile questo il titolo che fa la stampa parla la russa il presidente del senato io super partes ma faccio politica Meloni e Nordio divisi sull'ergastolo costativo il governo sospende le multe ai Novax i medici in rivolta contro il Liberi Tutti terzo polo tensioni tra Calenda e Renzi scrive la stampa andiamo avanti con il quotidiano comunista il manifesto lo scippo questo scrive in apertura il manifesto accompagnando il titolo con una foto di Matteo Salvini Salvini suggerisce la prima mossa contro il reddito di cittadinanza toglierlo a 900.000 percettori per finanziare quota 102 il consiglio dei ministri domani partirà da giustizia e covid conferma dell'ergassolo ostativo rinvio della cartabbia via l'obbligo vaccinale nella sanità poi oggi le elezioni il ballottaggio in Brasile Lula Bolsonaro che Brasile sarà questo si chiede in prima pagina il manifesto andiamo adesso al quotidiano della destra il secolo d'Italia l'Italia pacifista getta la maschera è Filoputin scrive il secolo che mostra poi uno striscione con questa scritta vittime del regime nazista di Kiev vediamo le altre notizie in primo piano i contanti aiutano i poveri lo dice Meloni no lo dice la BCE letta sbranato dai giovani del PD vadano a casa tutti i vecchi dicono i giovani dem Papa Francesco ai giovani attenzione al menefreghismo vediamo adesso invece con il sole 24 ore l'informazione economica plastic e sugar tax stop in due tempi scrive in apertura il quotidiano di Confindustria verso la manovra in arrivo una proroga per un anno alla quale seguirà l'abolizione sul tavolo anche revisioni a reddito di cittadinanza e accise sul tabacco poi si parla di emergenza bollette caldo e recessione risparmi energetici per 1,4 miliardi l'Unione europea dice meno consumi e più aiuti poi si parla del processo penale riforma rinviata e in conclusione della nostra rassegna stampa come di consueto diamo uno sguardo alle notizie sportive con la gazzetta dello sport che questa mattina fa un paginone dedicato all'Inter Inter Formula 3 questo è il titolo di apertura tre reti alla Samp e terzo posto atto di forza barella show segna ancora rinascono De Vry e Correra Inzaghi dice mi diverto e domenica c'è la Juventus Bene con le notizie sportive termina la nostra rassegna stampa l'appuntamento alle ore 14 con il nostro telegiornale a voi tutti buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti